Migliaia le persone presenti sabato notte alla Baia dei Delfini Qui Max Pagano, buonasera Ciao, salve a tutti E qui Mimo Amce, buonasera Ciao Night and Day Mandi i baci, a chi li mandi questi baci? A chi li mandi questi baci? A tutti, al pubblico di Night and Day Guarda il contesto omologo, Baia dei Delfini In effetti è come se fosse una festa tra amici Max, ma tu qui sarai per tutta l'estate? Eh, penso proprio di sì Abbiamo una console fortissima, ricchissima Che per tutta la notte cambia, cambia Se volve poi ricominciano da zero di nuovo tutti quanti Ripartono dal primo E per farmi semplicemente divertire in modo tale Che una volta che andate a letto Che bella serata Comunque voglio ricordare anche Il grande assente stasera Peppe Nastri Che non c'è Come non c'è? Io adesso sono arrivata Sta a Cassino Sta a Peppe Salutiamo Salutiamo comunque In questo momento c'è Tony Zecchi Dopo ci sarà Mimmo Mimmo, tu già hai dato? Io già ho dato stasera Max e Mimmo un bacio 3D&A è questa Puro e sano divertimento Tony Zecchi, buonasera Siamo qui per divertirci, per scatenarci Quindi sono loro che mi danno una carica Sento l'energia arrivare qui in console Poi bisogna Perché è importante stabilire Cioè deve essere il DJ poi Giusto, giusto Poi si stabilisce quel contatto con il pubblico Con la gente che si diverte Ciao a tutti Ciao Ma si può andare avanti così tutta la sera Ma io non ho capito È il minimo Non siamo altro che portatori sani di divertimento E lo trasmettiamo Un bacio a tutti voi, ciao Buonasera, buonasera ragazzi Questo art director che non ne vuole sapere niente Siete, siamo in console questa sera Perché venire alla Baia? Perché è l'unica struttura Diciamo anche del sud Italia Che può accogliere questa bella gente Organizzata al 100% Per voi che state ancora a casa Venite Ciao Questa è la quinta serata Se non ho rivolto male E ogni volta è una soddisfazione Perché veramente Sta diventando una cosa sempre più emozionante Sembra sempre che Come se fosse la prima volta Quindi grazie alla gente Che ci premia Io devo sempre ringraziare I Casanovi Che ho d'accordo Ormai è diventata una sinergia incredibile La squadra è sempre il segreto Di un grande successo Ciao Night and day Alla mia amica Annabella E a tutti quanti Un bacio C'è anche Francesco Buonasera Buonanotte Buonanotte Perché noi non lavoriamo di sera Ma lavoriamo di notte Io sono più night and night Ciao ragazzi Mi raccomando Moloco Moloco Noi siamo i Forfor Tu ti chiami? Mimmo Lui è? 24H Luca Allora tutti questi Ma tu ma tu che vuoi qua? Io sono Casanova Event In mezzo ai core a core Voi a casa che ci state a fa? Venite vi aspettiamo Tutti alla baia Due ragazze bellissime come voi Devono testimoniare quella che è l'eleganza di questo locale Perché scegliete per il vostro sabato Sera il Moloco Baia dei Delfini? Perché è elegante A Porta Vici C'è bella gente Quei ragazzi come sono della Baia dei Delfini? Sono molto educati rispetto a tanti altri locali Cos'è che non manca mai nella vostra borsa? Luce da labbra? Cellulare Un bacio agli amici di Night and Day La Baia dei Delfini Quest'anno ha raggiunto il top Da 1 a 10 Baia dei Delfini Cellulare Buonanotte tutta la bella gente Ok Ma tu sarai qui tutti i sabati fino a fine estate? Esatto Non poteva mancare Carmine Immancabilmente Cioè lui è stato ovunque Ma ragazzi cosa dire? Non mi voglio ripetere come sempre Altrimenti il tuo capo Annabella Mi dice che Ma anche Teppe Bove e Gaetano Bravo bravo Voglio fare un saluto ad Annabella Io penso che ormai la Baia dei Delfini È una realtà Noi siamo un gruppo che Ogni sabato siamo presenti Siamo presenti alla Baia dei Delfini Ristorazione Champagneria Complimenti a Core a Core Casanova E salutiamo anche i fashion panel Noi come minimo Night and day Ti voglio salutare Annabella e Sara Abbiamo anche le percussioni Lello buonasera Ciao a tutti Se dovessimo dare una motivazione ai nostri amici a casa Perché venire al Moloco? Che si ascolta musica vera Con live Sacro percussioni Grandi DJ Ciao a tutti Ciao Angelo Izzo ha cambiato il cappello Ci viene da ridere Buongiorno Tra l'ho visto che è buongiorno Ma devo dire che ti dona Dopo vent'anni di locali Veramente Ho cambiato il cappello Noi siamo abituati a vederti Come dicevo prima con la visiera Questa sera praticamente Questo cappello Fashion Si sono rubati il cappello Vi chiederete perché non c'è musica? Perché è l'alba Perché abbiamo finito Abbiamo finito Di lavorare da poco Abbiamo finito Cioè i professori sono andati tutti Ringraziamo soprattutto l'operatore Ringraziamo te ma soprattutto l'operatore Anche ci avete aspettato Ci siamo Ci siamo Non soltanto le persone che si vengono comunque a divertire Chi prende un tavolo Chi sta in champagne Ma anche soprattutto chi viene a mangiare A cenare Perché è importante ricordarlo C'è anche la possibilità di utilizzare questa formula Beh infatti chi prenota il tavolo in preserata Poi ha diritto automaticamente a entrare per la discoteca Ovviamente non sono tantissimi imposti Ma riusciamo a soddisfare insomma abbastanza la clientela Al 90% Eccolo lì Adesso è passato E quindi voglio dire Oltre a questo poi c'è una ciampagneria simpatica a bordo piscina Insomma voglio dire Il locale si muove Bello, bello Bello, bello Quindi allora facciamo i moccalwork Quelli che sono le altre serate Noi ci vediamo alla prossima Angello mi raccomando Sabbato prossimo L'altro cappello Ebbè L'altro cappello Ne prendiamo uno nuovo Dai Una settimana Domandiamo così Un bacio ai amici E alla prossima Ciao, grazie